Nonostante i controlli e le denunce da parte delle forze dell'ordine, i pescatori dell'Agrigentino continuano ad effettuare la pesca illegale del Novellame, meglio conosciuto come Bianchetto o Neonata. Nuova segnalazione di Mariamico che ha avvistato ed immortalato ad Agrigento in località Caos, a poche centinaia di metri da Porta Empedocle, delle barche correti adatte a pescare esemplari di sarde ed acciughe dalle piccolissime dimensioni. Ogni chilogrammo di Novellame Pescato sottrae al mare due quintali di pesce adulto, ricorda l'associazione ambientalista Mariamico, che ha coniato una sorta di slogan, il Novellame non va pescato né venduto né consumato. A quanto pare la richiesta da parte degli acquirenti è infatti alta se si continua a praticare questo tipo di pesca, rischiando multe salate. Per questo motivo Mariamico si rivolge alla gente, rendendola consapevole delle ripercursioni sull'ambiente marino ma anche sulla stessa economia, derivanti dal consumo di pesce non ancora sviluppato. Qualche settimana fa gli uomini della Capitaneria di Porta Empedocle hanno intercettato due imbarcazioni da di Porto mentre stavano pescando del Novellame a poca distanza dalla costa. Sono state sequestrate due reti adatte ad intrappolare pesce molto piccolo. Non solo, è di pochi giorni fa il rinvenimento ed il contestuale sequestro da parte del personale dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca di 15 kg di Novellame a Portopalo di Menfi. Ai trasgressori erano state contestate diverse violazioni di natura amministrativa ed elevate sanzioni per complessivi 18.000 euro unitamente al sequestro dell'attrezzatura non conforme alla normativa vigente. Insomma, sia la Capitaneria di Porto sia l'Associazione Maramico tengono d'occhio le acque antistanti le coste grigentine per il rispetto del divieto di pesca, trasbordo e detenzione di specie ittiche sottomisura proprio nel periodo in cui gli esemplari di sarde d'acciughe si riproducono maggiormente.